Non posso vedere l'anno indietro in parire Siamo andati molto migliorando rispetto agli inizi Secondo me anche negli ultimi tornei si è visto un cambiamento di performance Abbiamo fixato alcune cose anche parlandone tra di noi E quindi sono molto fiducioso per la LAN Questi ultimi tornei fatti L'ultimo tornei, tornei, tornei Poi, tornei Che facciamo? Voni, tornei Buongiorno Quando abbiamo iniziato a giocare con lui non siamo parlati benissimo Però poi facendo tornei tutti i giorni siamo migliorati tanto secondo me Soprattutto di team abbiamo preso molta più confidence Anche consapevolezza di fare bene Cosa che secondo me all'inizio non c'era Questo anno è stato la migliore squadra che ho avuto E posso avere una fiducia piena con i miei amici, Nico e Ronny Normalmente i team che ho avuto prima non sono davvero confidenti di fare bene Non sono stata la stessa pagina o non funziona Ma sono stato molto confidente questo anno Ma credo anche che l'interno di comp, ogni altro team è molto migliore Quindi i standard di guarda sono più alti Il formato di quest'anno mi piace di più perché è Match Point E trovo carina l'idea di suddividerlo in due giorni Anche per avere un giorno in più Per allenarsi per vedere come va il land, come vanno i game Quindi preferisco quest'anno sinceramente Sì, ancora sono stato molto confidente Mi sapevo che se abbiamo giocato il nostro gioco in LCQ L'arriamo e l'arriamo E l'arriamo e l'arriamo E l'arriamo facile L'arriamo e l'arriamo E l'arriamo e l'arriamo E l'arriamo e l'arriamo Penso che il nostro punto di forza E l'aggressività di quando magari iniziamo dei fight F*** di idioti E quindi ragazzi ci becchiamo il land Mandateci il vostro supporto perché ci servirà Mi sento positivo E in realtà molto confident Sono anche poca ansia rispetto al team 20 Quindi penso che questo fattore possa toccare anche a nostro favore Spero che riusciremo a performare Come gli ultimi tornei Giocati da casa C'è un dito di essere ancora un po' più consistente E sicuramente è un vero Posta ancora Vortexone Sembra che se sono poca Bella bella questa potrebbe essere kill Bravo bravo Bella sprayata Peccato L'ha preso L'ha preso Bravo Robstar che conferma Bella sprayata qua di Vortexone Io sto parlando Rappiando Rappi Vanzi 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 Let's go boys, come on TB2, we're TB2 by the way That one is fine We're waiting for you, waiting for you They're coming Ok, come Ronnie, come Ronnie One inside One inside One more One bullet, one bullet One bullet inside Regress Vai, vai, vai Last one No, no Ok Nichele, nichele, Ronnie Oddio Maschera, maschera Ce l'hai, Ronnie, ce l'hai Secure time, aspetta, recupera la vita Non c'è, non c'è, devi provare ad andare da sotto a destra, Ronnie, secondo me Più alto qua, provo ad andare più avanti che poi C'è uno sotto a sinistra, Ronnie, uno davanti a te, puoi killarlo Nice, Ronnie Maschera BDS Vai, vai, vai Vai, vai Nice, Ronnie Vai, 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 vai BDS, evita, evita Take your time Gotta let them fight Maybe some players, maybe Let's go, come on Come on, bro Every kill, every kill is good I'm just gonna let them fight and then look over, I think Let them fight, let them fight The gas though, the gas, look You can do it, yeah I bet I have nothing, nothing I can do Ronnie, you're the f**king goal, bro Let's go, come on, man The big f**king game Una legno I can't, I can't, I can't I have a good idea, I have a good idea Sì, no, no, no... Sì, siamo fatti, siamo fatti, siamo fatti Bene, torniamoci Un po' un po' là, ragazzi Sto spingendo, sti spingendo Sto spingendo, sti spingendo Sto spingendo, sto spingendo Sto spingendo, sti spingendo Sto spingendo Quasi, c'erano un po' di calcio Sto spingendo Sì, sì... vediamo da qua magari risponde magari risponde come faccio a fare le chiamate io ci provo ragazzi ci provo sono contento di questa prima giornata una top 10 era importante per darci quel boost per domani penso che possiamo fare molto meglio di così abbiamo fatto un buonissimo game oggi tutti gli altri game abbastanza niente di che ecco niente di clamoroso quindi sono fiducioso che domani possiamo fare molto meglio anche perché questa sera abbiamo tutta la sera per riguardare i vari game e per rivedere alcune tattiche e riorganizzarci ragazzi il primo giorno è andato molto molto bene diciamo ho fatto alcuni errori singoli come ha detto prima anche nico però in generale sono contento dai è stato un buon diciamo boost per domani quindi si sono molto soddisfatto di come ho giocato quel game ho avuto anche un po di fortuna visto che ho visto che uno del team viene crashato quindi credo che mi ha anche aiutato a fare questo clutch però tutto adesso secondo me l'ho giocato molto molto bene poi ovviamente ho avuto la mia dose di fortuna come ho detto prima però in generale sono contento ecco ci vediamo domani ragazzi dei due dateci supporto perché ci serve bene not a good sleep excited to compete today today is the main day main focus and ready to lock it in man molto riposato e sono confident di come iniziare il game oggi quindi cambierete qualcosa rispetto a ieri o cambiare non penso perché comunque ieri è andato bene quindi pensiamo di continuare sullo stesso ritmo vediamo come vanno i game comunque primi c'è il primo e il secondo game sono mi vogliono i capelli full alberto mi vogliono i capelli full alberto mi vogliono full i capelli no no vai tranquillo secondo me non durerà tanto oggi 5-6 game shift e loro la chiudono quindi dobbiamo far bene se possibile andate full team in the caro ok behind us ok keep chasing this guy go one go one drop down drop down drop down to me yeah i get a shoot from top like top like it is they're gonna drop down to us i think boys one nice go on me on me on the left below me below me Stai a me! Stai a me! Stai a me! Stai a me! Guarda a me! Guarda! Uno, uno! Ho due! Stai a me! 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 I'm gonna mark him! Just kill him! Just kill him! One way to the top! Nice! Stai a me! Stai a me! I'm dead! I'm dead! Take your time! Oh yeah! I'm trying! I'm trying! Wait! I knocked one! Oh my god! I'm dead! Come on! Fucking hell! Like inside! Weak! Quick on me! Dead! Get on me! Set, set, set! Inside, inside! No, no! Set, set! On me! Dead! One bullet! On me! On me! Nice! Ma come fai? Oddio! Spapolato quel pezzo taglio! Piazza, ripiazza, sclacazza! On me! On me! On me! On me! On me! Andare più in forza! Eh! Ma come fa? Come fa bro? Come fa Boraccio? Guarda che safe! Ma guarda che safe! Come fa? Bravo! Abbassati! Zitto! 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 No, no! Attacca il grappolo! 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 Ma che cazzo vuole il grappolo? Ma sempre grappolo dai! Ma sto grappolo del merda! Ma ti rendi conto il grappolo del cazzo? Tre volte da preso, non due! Sì, da qua! Come to me, come to me We need to hold this kid behind us, ok? We need to hold them Ok, ok, ok Go there, go there, on the left There, on me I need a playbox, yeah I think we might go in front of us Oh, oh, yeah Can I give you a sample? Can we go there? There, there, come here People, 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 people I'm dead, I'm dead, I'm dead I'm in, I'm in Maybe, dead, dead, dead Fuck, man Blackverse I knew that pushing you Die What? It's finished up, day 2 World Series wars and final We finished 17th I feel like we could have got We could have done a lot better I feel like we could have easily got top 10 But things didn't go our way We had NKO's team third part in us Every time we killed pound off to start We didn't get one top 10 placement Our end games weren't the best Yeah, so I do feel like we could have done a lot better But it's all it is I think I've had a good year with the boys It's been a big, big learning curve for me It's been a really good experience as well And I'm happy with it Hopefully next year will be better Thank you to all the Totten fans that have been supporting us I really do appreciate it Thank you All right We were in the top 17 The result is not what I expected We are a team I don't say top 5 But we are in the top 5 But we are in the top 7 We have made some games But we have taken a lot of games At the end we have taken a lot of games The last game was what we did In the top 17 In any case, but We need to look at the positive We have played well in the last game And in the first 4 So now it's okay I'm happy Because today We have started with 3 games That were really good I saw a lot of constant At the beginning After the break We haven't been able to 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 We have in the top 5 We have also a top 1 But we are able to We are able to We have in the top 5 But we are able to We are able to We have in the top 5 But we have been able to We have in the top 5 But we have enjoyed it All of the top 5 I think That 2 players Is it still But that's it It's all There is The top 5 And that's it It's all I am gut però da quando mi ho iniziato a giocare con Rob ho visto un percorso in discesa mi hanno sempre fatto meglio, ci siamo parlati, mi hanno discusso degli errori che facevamo e ho visto il team migliorare molto solo negli ultimi tornei peccato perché la LAN non è il risultato giusto per questa LAN dato gli ultimi tornei, non lo so, ma ritroviamo qualcosina di più però è andata come è andata ringrazio tutti i ragazzi della chat che mi hanno sostenuto ringrazio tutto lo staff di Totem che ci ha supportato e mando un saluto alla mia famiglia, alle persone che mi stanno accanto e si chiama Divi Grazie a tutti